Tutto fatto tra Andrea Camplone ed il Cesena di Giorgio Lugaresi. L'allenatore che ha portato alla salvezza il cavalluccio nella stagione 2016-2017 si è meritato la conferma in Rival Savio dopo l'inizio tutto in salita della gestione targata Massimo Drago. Insieme a Camplone rimarrà anche tutto il suo staff tecnico composto dal vice Giacomo Di Cara, il collaboratore tecnico Pasquale Rocco, il preparatore dei portieri Marco Nesti ed il preparatore atletico Salvatore Lalinga. L'accordo è stato siglato dopo un incontro iniziato in mattinata e terminato alle 15.30 del pomeriggio. Giorgio Lugaresi ha confermato come l'incontro abbia portato i suoi frutti in breve tempo, soprattutto dal punto di vista economico non ci sono stati strappi. Si parla di 150.000 euro circa annui. Intanto sul mercato Rino Foschi è già pieno regime impegnato nella campagna acquisti-vendite che insieme al tecnico abruzzese è stata fissata così come le prime amichevoli da svolgere durante il ritiro di acqua partita. La campagna abbonamenti Amavivi e Tifa continua a far registrare grandi numeri. La nuova quota è arrivata a 3.636 tessere sottoscritte e le conferme di Camplone unita a quella di Foschi potrebbero dare una nuova accelerata.